L'arte delle felicità L'arte delle felicità è un programma creato dall'Istituto L'Amazon Kappa che si fa in nove incontri. Sette incontri sono ognuno un tema specifico e poi inseriamo un ritiro intermedio e un ritiro alla fine del percorso indirizzato a persone che hanno già una vita spirituale persone che non sono religiose in nessun modo il pubblico generale, diciamo. Il corso è basato sul libro del Dalai Lama che si chiama L'arte delle felicità e una conversazione tra il Dalai Lama e il dottor Howard Cutler che è un psichiatra di Harvard University. È una conversazione anche tra il buddismo da una parte e l'occidente dall'altra parte. Cerchiamo di offrire un'esperienza che è multidimensionale. La felicità per le neuroscienze è un concetto che si sta formando. Si intravedono due categorie, due tipologie di felicità. Una, nel breve termine, chiamata anche edonia ed è la felicità un po' più legata al senso del piacere, anche quello fisico. L'altra tipologia è la eudemonia che è più a lungo termine una soddisfazione in generale dell'andamento della nostra vita e della nostra relazione con gli altri. Negli ultimi anni le neuroscienze hanno capito in maniera abbastanza chiara come il cervello non sia un organo statico ma un organo dinamico, plastico, in continua trasformazione a seconda delle attività che le persone fanno. Se questo è facile da capire per un compito motorio come suonare uno strumento musicale andrebbe capito anche per altre competenze. Per esempio, la nostra capacità di percepire, capacità visive, uditive, relazionali. Tutto il panorama delle funzioni mentali che noi abbiamo a nostra disposizione possono essere affinate attraverso dei protocolli di apprendimento a cui corrisponde una trasformazione neurobiologica del tessuto cerebrale sottostante. Ci sono delle componenti innate rispetto alla propensione alla felicità ma tantissime sono le componenti acquisite e che dipendono dal nostro stile di vita. Vogliamo tutti essere felici? Cioè, è la motivazione sotto tutto quello che facciamo. Nonostante tutte le cose sbagliate che possiamo fare nella nostra vita meritiamo tutti essere felice. Grazie a tutti. Grazie a tutti.